E' arrivato Mattia Bani, che ringrazio e saluto, bentornato, ben ritrovato, naturalmente intanto ti chiedo subito come sta andando questo ritiro per te e per la squadra, insomma un ritiro importante dopo la retrocessione dell'anno scorso. Sì, sicuramente stiamo bene, stiamo lavorando tanto, come è giusto che sia, però c'è un bel clima e questo è importante, poi sta a noi inserire il prima possibile i ragazzi nuovi, però sta andando bene. Tu sei un perno importante della difesa, l'anno scorso hai fatto anche una buona stagione, sicuramente nell'anno disgraziato della retrocessione, adesso si vuole ripartire, bisogna cambiare passo immediatamente per dimenticare quella delusione generale. C'è più la rabbia di quello che è successo o la volontà veramente di dire ai tifosi noi ci siamo, vogliamo recuperare l'anno perduto? No, penso ci sia la volontà di voler fare un campionato importante perché è un campionato difficile, è quello che ci aspetta, ormai purtroppo sappiamo tutti come è andato l'anno scorso, però io sono sempre dell'idea che bisogna lasciare al passato quello che è del passato, ormai non possiamo più cambiarlo e quindi è giusto concentrarci su quello che verrà. Tu hai 30 presenze nel Genoa, sicuramente anche negli anni precedenti avevi già avessito la maglia rosso-blu quindi conosci molto bene l'ambiente. Come ti pare nello spogliatoio la situazione da fuori del Genoa dopo una retrocessione? Qui sono arrivati anche tanti tifosi, 13 mila e oltre abbonati, cioè è una bella responsabilità vero? Sì, assolutamente, ma siamo contenti, siamo contenti che le persone ci danno questo sostegno, sono stati incomiabili l'anno scorso, veramente li ringraziamo ancora perché in un momento difficile ci hanno sempre fatto sentire il loro appoggio, sono convinto che anche quest'anno sarà così, poi starà a noi portarci tra virgolette dalla nostra, però è un bel ambiente perché si respira comunque come ti ho detto prima, una bella aria, sicuramente avere diversi giocatori che c'erano l'anno scorso ci aiuta e siamo pronti. Senti oggi Renzo Olivieri con Toscanaccio come te, tu sei di Porco San Lorenzo, sei in Fiorentino, lui è di San Mignato, non ha mai peli sulla lingua, ha detto io ho visto il Genoa in questo momento che ha questa voglia di ripartire, è vero che si vede un po' io, insomma qualche giorno che vi sto seguendo, vedo che c'è un ambiente comunque che ha voglia di ripartire e lo fa con grande intensità. Sì sì sicuramente abbiamo voglia di ripartire, abbiamo voglia di fare un campionato importante che è veramente difficile, non penso ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato come in tutti gli altri anni, quindi saranno battaglie. Occhio perché tutti seguono il Genoa, siete la lepre, insomma è pericoloso a volte. Sì sicuramente l'importanza della squadra ci dà come magari favoriti però sta a noi dimostrarlo e cercare appunto di arrivare alla fine dell'anno. Naturalmente aspetto anche le domande di Graziano Cesare che è in studio, di Carlo Pernati, di chi vuole fare, magari io sono pronto a cedere il microfono a Mattia che gentilmente risponde, sono tanti anche i tifosi che stanno scrivendo. Volevo fare ancora una domanda, poi c'è Graziano che ne vuole fare una, insomma si parla molto dell'attacco in Serie B, no? Servono 21 vittorie, qualcuno è andato a guardare negli annali, negli ultimi campionati ed è vero, bisogna avere dei bomber che segnalano tanti gol. Però insomma tu rappresenti la difesa, questo è stato anche attenti. No sicuramente, io penso sempre che non prendere gol è un aspetto importante per poi vincere le partite. L'italiano abbiamo questa mentalità un po', no? Sì, ce la portiamo sempre dietro, quindi poi ha maggior ragione se sono difensore, però sicuramente fare una buona fase difensiva ci aiuterà a fare dei punti importanti. Poi sono convinto che davanti abbiamo tanta qualità, che sicuramente ci daranno una mano, segnalando i gol importanti abbiamo preso Massimo, che è inutile che sto a dire io, il tipo di giocatore che è soprattutto per la categoria. Abbiamo tanti ragazzi, io penso anche a Caleb, Iebo e Gudmund, ce ne sono veramente tanti. Sfiducioso insomma. Sì, assolutamente. Senti, hai giocato con Ostigar, con Maximovic, è cambiato un po', la difesa è arrivata con Dragusin, sono arrivati i giocatori mogliacchi, insomma anche dei giovani, no? Tocca un po' te in qualche modo dare le direttive. Sì, sicuramente. Senti questa responsabilità. No, ma penso che cercherò di aiutarli, come ho fatto con Leo appena arrivato, che sicuramente si è ambientato abbastanza velocemente, ma comunque serve anche a questi ragazzi un periodo di ambientamento e spero io, come tanti altri miei compagni, di essergli d'aiuto e sicuramente ci proveremo. Graziello, se vuoi fare una domanda io giro volentieri a Bani. Fa subito Carlo Pernati. Ciao Giovanni, ciao Mattia. Ma guarda, a parte che abiti a Borgo San Lorenzo che è vicino a Mugello, quindi io che sono motociclista, insomma tifo anche per te. Ma voglio dire, ora mi faccio una domanda che farei a un direttore sportivo e tu sicuramente non mi risponderai. O non puoi rispondere. Se tu fossi un direttore sportivo del Genoa, quali innesti faresti ancora per rendere questa squadra la lepre? Una bella domanda. La lepre. Carlo Pernat che tra l'altro è il grande manager di Valentino Rossi, insomma il MotoGP, dice tra l'altro Corno San Lorenzo vicino al Mugello, quindi è esatto, si è esaltato. E dice, insomma se tu fossi un direttore sportivo del Genoa, ce n'è uno bravissimo, ce n'è uno staff molto preparato, dove butteresti una fish per rinforzare il Genoa? Difficile? Difficile, per fortuna faccio il calciatore, non ci devo pensare io per fortuna, però. Ho tentato. Penso che siamo un gruppo coeso che ha tanti giocatori in tanti reparti, secondo me importanti, sicuramente sono convinto che sia Ioanes che comunque adesso poi il nuovo direttore sapranno dove va rinforzato. E se eventualmente serve ancora rinforzare questa squadra. Io penso già che siamo un buon punto di partenza per la categoria, poi come ti ho detto prima, meno male faccio il calciatore e faccio fare a loro il direttore. Graziano, una domanda da te poi. Sì, io invece chiedo a Mattia. Prego. Mattia mi spiega Blessing? Sì. Ah bello, sì. Graziano Cesari dice Mattia mi spiega Blessing? Ah, il mister è un carismatico, penso, ormai abbiamo imparato anche a conoscerlo. Ci sta dando una grande mano, sta cercando di far capire a tutti i ragazzi nuovi quello che lui richiede e quello che un po' ci ha caratterizzati negli scorsi 5-6 mesi in cui è arrivato lui. Sicuramente quest'anno vorremmo proporre un qualcosa di diverso, l'ha detto anche lui, magari cambiando anche modulo, trovando altre soluzioni. Però è una persona veramente disponibile, lui e il suo staff e stiamo facendo un ottimo lavoro. Sicuramente, tu sei uno dei capitani di questa squadra, c'è Sturaro, ci sono giocatori di personalità, tu sei uno di questi sicuramente. Avete anche tanti ragazzi giovani che hanno voglia di fare, che devono forse anche un po' riscattare magari una stagione un po' deludente della scorsa stagione. Come li stai vedendo? Sicuramente c'è rivalza da parte di tutti, però li sto vedendo bene, li sto vedendo carichi, sono arrivati alcuni anni dopo dagli impegni nazionali, però sono arrivati pronti e li vedo con grande voglia di dimostrare comunque che possono stare all'interno di una squadra importante come questa, di potersi ritagliare un percorso importante per poi portare il Genoa dove merita. Arrivano questi amichevoli che non so se poi nel calcio d'agosto come si vanno prese, perché se si vince si esalta, se si perde si deprima. Domani hai giocato contro una squadra spagnola che comunque è forte. Siamo pronti o si fa per degli esperimenti, per cercare di migliorare tanto la tenuta fisica e capire già le prime mosse tantiche? No, sicuramente sono test importanti perché innanzitutto ci danno modo di rientrare nel clima partita, logicamente ho tenuto conto dei carichi di lavoro che per ogni squadra poi sono diversi, noi stiamo lavorando tanto e cerchiamo di fare, penso che la cosa importante è cercare di portare in campo quello che ci richiede il mister e cercare di migliorare con gli automatismi dei ragazzi nuovi perché poi alla fine la partita è quello che ti consacra in tutto. Poi lascio la linea naturalmente alla regia e a Graziano Cesari, ti saluto dicendo però guarda in camera, lì ci sono tanti tifosi che a Genova e in Liguria ci stanno seguendo, cosa vuoi, non dico promettere perché promettere è sempre difficile, ma cosa vuoi dire al popolo rosso-blu che ha sofferto però con grande dignità ha accettato la sconfitta l'anno scorso? Che gli aspetto numerosi come sempre a Marassi per fare tutti insieme un campionato importante che ci veda protagonisti. Assolutamente, Mattia grazie, bocca al lupo per questa stagione, continueremo a vivere il ritiro e raccontare quello che state facendo sperando che sia una stagione del riscatto veramente. Grazie per il momento, Graziano Telalina, io resto qui naturalmente per darvi voi tutte le comunicazioni. Assolutamente sì perché io voglio invece il ritiro della Sandoia perché ho già visto...